In molti gruppi. In molti gruppi le entità erogano un insegnamento diverso da quello ricevuto presso altri gruppi. Secondo alcune entità, ad esempio, l'incarnazione non esiste. Secondo altre è il pilastro su cui ruotano imponenti strutture di pensiero. Come si spiega questa contraddizione nella forma coscienza che noi chiamiamo insegnamento dei maestri? Commento. Si può spiegare in due modi. Il primo che è il più scardinante per chi vuole accedere a uno studio comparato dei vari fenomeni con la differente evoluzione delle entità comunicanti. Il secondo con l'esigenza che le stesse entità hanno, anche quando sono a conoscenza di determinate verità, di non violentare le convinzioni dello strumento e del gruppo, specie se si tratta di convinzioni radicate. In questi casi le stesse entità preferiscono dare una verità valida al 50%, ma attenzione, questa verità non è una menzogna, è la stessa verità vista sotto un aspetto diverso, sono i medesimi concetti espressi da diversi punti di vista.